Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrare di sciocco o assurdo, ci dovete provare. E chi non conosce questo film L'attimo fuggente, bellissimo, meraviglioso, questa scena è una di quelle cult che magari abbiamo visto, visto e rivisto. Perché abbiamo voluto mettere questo pezzo di film per introdurre questa tavola rotonda delle fonti Asset Management TV Week? Perché dobbiamo parlare proprio di prospettive diverse. Avete visto? È l'anno della ricca corsa, l'anno della grande prova quello del 2022, quello che stiamo vivendo. E ancora di più ci sta mettendo alla prova proprio inaspettatamente. Perché con quello che sta accadendo a livello geopolitico tutti noi abbiamo dovuto rivalutare delle questioni. E proprio per questo bisogna guardare i mercati e il mondo, naturalmente, se vogliamo ricitare la frase detta del film, da una prospettiva diversa. Perché tutto può cambiare. È un modo per approcciarsi al mondo in maniera più ricca, più variegata, proprio per avere anche più possibilità. E allora, la tavola rotonda di oggi vi racconterà qualcosa di più dei certificati. Il mondo dei certificati che sempre sulle fonti TV noi analizziamo. Abbiamo il nostro Zoom Certificates settimanalmente con focus proprio sulle opportunità che arrivano da questo strumento. Ancora di più lo faremo oggi. Io vi invito anche a seguirci sul sito newassetmanagement.it. Vi mostro proprio quello che emergerà durante questa tavola rotonda. Così vediamo anche chi saranno i relatori che tra poco vi introdurrò. Strategia, conoscenza, un mondo di opportunità. Quindi, naturalmente, i certificati e le tecniche per utilizzarli. Una storia ricca di emozioni per coloro che utilizzano i certificati per i loro investimenti. Tanti profili differenti. Ecco qui la prospettiva, le diverse prospettive di cui parliamo. Tante storie e tante soluzioni. Le emozioni non mancano. Anche questa parola la analizzeremo con i miei ospiti perché è interessante. Ma per i più attenti e informati sono molte le opportunità di successo. Allora, saluto, così li avete visti, ma li salutiamo direttamente. Riccardo Falcolini, Sales Public Distribution Italy Unicredit. Riccardo, ben trovato anche oggi sulle fonti TV. Grazie. Ciao Manuela, buongiorno a te. Grazie come sempre per l'ospitalità. Un buongiorno a tutti coloro che ci seguono e agli ospiti che saranno con noi. Grazie. Che sono? Luca Comunian, Global Market Sales BMP Paribas. Luca, ben trovato anche a te, naturalmente. Grazie per essere qui. A voi. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Grazie. Pierpaolo Scandurra, Managing Director, certificati e derivati. Pierpaolo, è un piacere. Piacere sempre mio. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito e un saluto anche agli altri ospiti. Allora, veramente in un flash. Riccardo, però, tutti e tre i miei ospiti, emozioni, certificati, diverse prospettive, l'anno della grande prova. Insomma, cosa vi sentite di dire dopo aver rivisto questo estratto dell'attimo fuggente che credo conoscessimo già tutti? Riccardo? Beh, sicuramente è un film molto interessante, molto bello, storico e siamo veramente in un momento di mercato particolare e in un momento politico particolare. Quindi parlare di mercati in questo momento richiede una grande attenzione, un grande focus. Per questo analizzare tutte quelle che possono essere le strategie, le caratteristiche dei strumenti che permettono insomma di affrontare situazioni attuali e possibili scenari futuri, sicuramente può essere d'aiuto verso gli investitori. Quindi, insomma, oggi appunto questo appuntamento si unisce a quello che noi abbiamo settimanale, Emanuela, e ci avvaliamo anche delle grandi competenze di Pierpaolo e di Luca, insomma, per venire incontro ancora di più a quelle che possono essere le esigenze della clientela, ma in generale di chi ci segue. Certo, Luca, insomma, ha ragione l'indimenticato Robin Williams. Ovviamente facciamo nostre per il mercato nostro di competenza le sue parole. Sì, diciamo che viene anche un po' meno, no? Quando ci si alza la mattina e si guardano i telegiornali, si guardano le news e vediamo determinati tipi di notizie come quella di stamattina, poi i mercati sembrano quasi una cosa secondaria, però purtroppo noi ci occupiamo, purtroppo per fortuna ci occupiamo di finanza ed è assolutamente prioritario per noi anche salvaguardare e offrire poi sul mercato degli strumenti che possano proteggere in questo momento i risparmiatori e le finanze, diciamo, di ogni singolo investitore. Su questo, insomma, magari l'anno scorso eravamo molto focalizzati anche su quello che era il rendimento da estrarre su mercati azionari che sembravano correre senza fine. Oggi siamo invece qui a parlare invece di proteggere, magari proteggere i rialzi per chi è saputo sfruttare l'anno scorso o proteggere invece quelli che sono delle posizioni o delle situazioni per gli investitori. Con fiducia, però, perché devo dire che quello che è stato fatto fino ad ora e scelte che sono state fatte sul mondo dei certificati, come ad esempio, non so, mi viene in mente le barriere a scadenza che oramai sono un 99% di tutte le nostre offerte, come anche i premi con effetto memoria che quindi, se non addirittura incondizionati, poi andremo a vedere più nel dettaglio. Però ecco, credo che abbiamo sul mercato degli strumenti che permettano di anche attraversare fasi come quella che stiamo vivendo in questo momento. Ottimo. E allora Pierpaolo, stessa domanda rivolgo a te, poi il resto da te, così ti do subito il gancio per avviare un'ulteriore discussione con tutti gli ospiti e anche con i nostri amici, perché ricordo sempre che potete intervenire scrivendoci se avete voglia di porre domande e di sapere qualcosa di più. Pierpaolo, dicevo, ti chiedo anche una panoramica proprio di mercato a partire da quello che sta succedendo, mercati che fin dall'inizio di questo 2022 sono volatili e adesso hanno proprio paura. Poi oggi la giornata è ancora più critica, se vogliamo, chiude una settimana che di per sé è stata davvero pesante e quindi anche quali possono essere le prospettive future. Insomma, facciamo una bella panoramica di mercato per poi capire cosa si può fare da un punto di vista di approccio agli investimenti. Sì, prima vorrei toccare questo aspetto delle emozioni, perché mi hai sorpreso con questo video e oltre a farmi ricordare insomma un po' di giovinezza, ma al di là di questo, le emozioni, emozioni sicuramente negative in questo periodo perché sono emozioni, le emotività, no? Le emozioni poi non necessariamente sono cose positive, sono anche quelle che noi viviamo nel momento in cui leggiamo notizie, vediamo immagini e quindi certamente le emozioni in questo momento ci portano anche a volte a commettere qualche errore. Infatti qui andrebbe anche il passaggio del guardare il mondo dalla cattedra, in questo caso potrebbe essere provare a guardare a questa fase storica un po' da un elicottero, ovvero cercare di mettersi in una posizione un po' più alta rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. Questo è importante soprattutto per le scelte decisionali che si vanno a fare nei confronti degli investimenti. Oggi l'emotività e quanto stiamo vivendo è evidente che porta l'investitore a essere talmente impaurito che il rischio è quello di farsi prendere proprio da questa emozione e di vendere, di andare a chiudere delle posizioni che erano state costruite anche con fatica o con fiducia un anno fa, un anno e mezzo fa. Ci siamo ritrovati a distanza di due anni esatti praticamente con la stessa identica situazione emotiva, con motivazioni decisamente diverse, prima il Covid, adesso un conflitto bellico, non so cosa sia peggio francamente, forse oggi direi la guerra semplicemente perché innanzitutto ha dei risvolti ancora più drammatici nell'immediato per quello che stiamo vivendo, ma anche perché il Covid forse ce lo siamo un po' lasciato alle spalle e quindi diventa evidentemente più facile parlarne con più serenità. Detto ciò, due anni fa ricordo che si diceva facciamo attenzione a non farci prendere dalle motività e a non vendere perché comunque i mercati tendenzialmente nel lungo periodo crescono e fin qui è una frase fatta, ma è anche ciò che accade poi realmente, ma soprattutto se si utilizzano determinati strumenti finanziari e qui stiamo per parlare di certificati, potrebbe essere inopportuno farsi prendere dalle motività e vendere un certificato a meno 10% rispetto all'acquisto o a meno 20% quando aspettando uno o due anni avresti non solo tutto il capitale rimborsato ma anche i premi, quindi i rendimenti. Detto questo mi rendo conto che è facile parlare da fuori perché poi quando sei coinvolto emotivamente vedi che giornalmente fai meno 3, meno 4, dici se avessi venduto lunedì oggi mi ritroverei sicuramente con dei soldi in più. Quindi io non biasimo chi si fa prendere poi dalle motività e decide di chiudere. Il problema è che è un mercato da due anni a questa parte molto difficile, non che in generale i mercati siano facili, ma tra Covid e situazione successiva di forte rialzo che ha spiazzato perché era forse eccessivo rispetto alla situazione contingente e poi nuovamente ora quanto sta accadendo perché poi adesso commentando i mercati Manuela, ricordiamoci anche che noi oggi siamo qui per commentare un indice italiano che perde il 4%, un mercato europeo che purtroppo sta affondando sulle notizie e sulle paure, ma se guardiamo bene alcuni investimenti americani in particolare ad esempio i titoli tecnologici e non parlo di Amazon o Apple, ma dei tanti titoli scoperti dagli investitori italiani negli ultimi 7-8 mesi e parlo di una Plug Power per l'idrogeno, parlo di una NIO per il settore delle auto elettriche e così via, in realtà i problemi sono iniziati già prima del conflitto, cioè da settembre del 2021 fino a gennaio del 2022 in 4 mesi questi titoli hanno perso tra il 50% e il 75%, andando quindi anche a volte a vanificare quella protezione data dalle barriere. Quindi cosa fare? Naturalmente il consiglio che uno può dare da fuori è quello di provare a mantenere la calma e la lucidità in un contesto di mercato che essendo così altamente volatile porta poi a commettere degli errori, perché poi qual è il rischio maggiore? Oggi tu sul meno 4 decidi che non ce la fai più, non vuoi sostenere questo stress e nessuno potrà dirti che hai sbagliato, perché prima di tutto la salute e poi i soldi e quindi va bene, proviamo innanzitutto a dormire questa notte, ma se uno ragiona in termini prospettici e tu oggi vendi, se lunedì mattina poi rimbalzano del 3 o 4% anche semplicemente per un motivo tecnico, dopo si fa fatica a rientrare, perché? Perché dici caspita ho venduto venerdì basso e faccio entro oggi che rimbalzano, no aspettiamo perché sono sicuro e domani riscendano, il giorno dopo magari rimbalzano di nuovo e ti ritrovi poi ad entrare quando è troppo tardi e entri a più 20% rispetto al prezzo a cui hai venduto. Questa è la dinamica azionaria. Con i certificati dal momento che sono dei profili asimmetrici, cioè non c'è questo prezzo che segue esattamente l'azione, il ragionamento può essere applicato in maniera ancora diversa. Quindi innanzitutto lucidità e razionalità, quelle emozioni positive o negative proviamo a tenerle fuori dai nostri investimenti il più possibile ed è stato il segreto e la ricetta vincente tra marzo e maggio del 2020. In piena crisi Covid chi è rimasto fermo ha visto i propri certificati di salire da 30 a 70 quindi recuperando più del doppio del capitale. Emotività da tenere fuori, razionalità se possibile, dopodiché proviamo a guardare i nostri investimenti più dall'alto che sul momento perché ci sono certificati che alla scadenza, strumenti di investimento alla scadenza, ancora oggi avrebbero un teorico rimborso di 100 più tutte le cedole perché vederlo a un prezzo più basso. Questo è un po' il discorso legato alle motività. Non mi vorrei dilungare troppo, il contesto di mercato è evidentemente complesso ma questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. La volatilità sul mercato azionario europeo ha superato oggi i 43 punti percentuali, il che vuol dire che siamo entrati in una fase di forte tensione e quindi questa è una fase in cui bisogna anche fare le giuste mosse. Ok, allora, stavo dicendo quando hai detto che bisogna guardare probabilmente anche le cose dall'alto, io torno anche sulla scena del film, a questo punto è stata proprio azzeccata, lui fa salire gli studenti sui banchi, poi oltretutto ovviamente è una situazione diversa, però insomma seguo assolutamente quello che hai detto tu Pierpaolo. Il panic selling speriamo che si possa arrestare perché altrimenti non porta mai niente di buono, riparto da Riccardo e poi vado anche da Luca per chiedere anche a loro, insomma poi cominciamo con gli esempi pratici come sempre, come gestire la scelta in momenti come questi, insomma abbiamo sentito le parole di Pierpaolo, una bella panoramica anche molto dettagliata, cosa vi sentireste di aggiungere insomma banalmente Riccardo? Allora, beh sì, Pierpaolo ha fatto una bella panoramica molto dettagliata sui mercati, sulle paure, sulla situazione che comunque devono affrontare, deve affrontare la clientela e appunto quello che ribadisco è ovviamente Pierpaolo mi trova molto d'accordo, è prendere le decisioni con consapevolezza e soprattutto che siano affiancati da un'adeguata formazione e quello che Emanuela noi portiamo avanti, noi come appunto anche i colleghi portano avanti da molto tempo, che sono appunto dei percorsi di formazione che possono permettere magari alla clientela di affrontare delle situazioni particolari come questa in modo più efficiente o più ragionato, quindi cosa significa? Significa sicuramente avere una strategia ben definita fin da quando si entra in posizione o soprattutto prima di entrare in posizione in modo da non farsi cogliere dal mercato, magari definire quelli che sono gli eventuali punti di ingresso o punti di uscita, diciamo se prendiamo in considerazione delle situazioni di posizioni più dinamiche. In secondo luogo, tarare sempre bene quella che è la propria propensione a rischio e anche di conseguenza quindi tarando la propensione a rischio scegliere quello che è il prodotto finanziario più adeguato alle proprie esigenze, quindi se io sono un investitore avverso a rischio magari non andrò a consultare o a negoziare quelli che sono gli strumenti a leva che mi possono creare più panico e quindi possono distogliermi da una lucidità di azione sul mercato. Quindi andare fondamentalmente ad adottare delle semplici regole e soprattutto di conseguenza in questo momento come emittenti direi sicuramente consultare e andare a scegliere dei prodotti che prevedono delle barriere, quindi una protezione del capitale più consistente, quindi delle barriere che vengano osservate esclusivamente a scadenza, magari dei prodotti quindi non in continuo, limitando quindi di conseguenza quello che è il rischio legato all'osservazione di una barriera in continuo, magari scegliere dei prodotti che mi permettano di avere un rendimento e quindi si possano affiancare a quello che è il bond, il classico bond all'interno dei portafogli e che siano magari di conseguenza in grado di assorbire l'eventuale drawdown del mercato azionario. Diciamo che queste che possono essere dei semplici consigli messi insieme e ovviamente utilizzati con cautela, quindi il cosiddetto maneggiare con cura, possono permettere di affrontare anche delle situazioni particolari come queste in modo sicuramente più ragionato senza farsi prendere dal panico. Poi io a fianco all'immagine e al video che abbiamo visto, ho visto un'altra immagine molto carina e quindi per riportare un po' il sorriso magari che è quella del film Una Poltrona per Due, quindi molto molto carino in cui si parla appunto dei mercati e quindi diciamo speriamo che questa situazione un po' per cercare di sdrammatizzare un attimo si possa lasciare le spalle presto e si possa ritornare un po' con una serenità non solo politica ma anche finanziaria. D'accordo, d'accordo, sì beh poi esatto, il film classico tradizionale Una Poltrona per Due che di solito però torna in auge nel periodo natalizio ma noi giustamente lo riproponiamo anche oggi che fa sempre bene. Allora Luca a te e poi dopo ripartiamo con la seconda parte diciamo così della nostra tavola rotonda, quella più operativa. Allora Luca. Sì, diciamo che mi trovo molto d'accordo con quello che è stato detto fino ad ora e io credo che in questo momento sicuramente è importante razionalizzare, è importante capire come funzionano i prodotti e non solo guardare a quello che è il valore del certificato, ad esempio mi spiego meglio, abbiamo comprato un certificato a 100, lo vediamo oggi a 90, come diceva un po' Pierpaolo prima mi faccio prendere dall'emotività, questa posizione non mi fa star bene e quindi decido di vendere il prodotto. È importante essere consapevoli di che prodotto e come funziona il prodotto. Ripetiamo di nuovo ma credo sia importante barriere a scadenza, magari il certificato ha una durata ancora utile di 2-3 anni e quindi c'è tutto il tempo diciamo per avere una situazione di un recovery diciamo avvi o comunque di un recupero dei mercati azionari tali per cui questo prodotto possa tornare a quotazioni vicino alla pari e anche a corrispondere eventualmente dei premi. Ecco questo credo sia un concetto fondamentale e dall'altro lato per chi invece si trovasse in una situazione diversa ovvero quella di non avere una posizione per guardare con ottimismo ovviamente anche al futuro e insomma che ci auguriamo tutti quanti potrebbe essere invece una buy opportunity importante perché magari comprare a questi livelli possiamo trovare sul mercato azionario e poi sul mercato dei certificati di conseguenza prodotti che sono scontati rispetto al prezzo di emissione e quindi possono essere sicuramente un entry point importante per chi non abbia già delle posizioni in essere. Ok ottimo allora come detto seconda parte della della tavola rotonda Pierpaolo supporterà un po' diciamo così anche anzi dirà anche la sua perché lo teniamo sempre un po' come io ti utilizzo sempre Pierpaolo anche come come dire co presentatore no perché poi tu ci aiuti un po' a fare sintesi delle delle varie proposte. Vogliamo iniziare da Riccardo con con la proposta e con l'indicazione rispetto a quelli che potrebbero essere gli strumenti adatti a questo periodo. Riccardo va bene per te? Sì va benissimo. Perfetto. Volete che condivida lo schermo? Allora sì diamo indicazioni tecniche esatto anche a chi ci segue noi adesso a seconda delle indicazioni che arriveranno proprio dai dei miei ospiti dai relatori ciascuno di loro condividerà il loro schermo e ci farà vedere appunto che cosa in questo momento potrebbe essere utile perché poi le domande sono quelle a chi rivolgersi a chi possono essere maggiormente utili in questo momento come fare ad avere maggiori informazioni come fare anche a capire che uno strumento può essere adatto a voi alle vostre esigenze perché poi lo abbiamo ribadito anche qui nella prima parte della tavola rotonda l'importante prima capire che cosa si vuole ottenere dai nostri investimenti qualsiasi essi siano e quindi in questo caso ci concentriamo sui certificati. Prego Riccardo se sei pronto condividi pure. Allora lancio la condivisione dello schermo chiedo solo una conferma che si veda. Sì lo vediamo lo vediamo. Perfetto. Ovviamente Manuela io ci tengo a ribadire sempre un concetto che quello che noi forniamo sono delle indicazioni ovviamente poi lasciamo la scelta finale alla clientela in modo da poter fondamentalmente andare a trovare quello che il prodotto che sia più congeniale le proprie esigenze. Quindi intanto prima cosa sicuramente per chi volesse trovare o identificare quelli che sono i nostri prodotti il nostro sito è sempre costantemente aggiornato con tutte le ultime nuove emissioni. Quindi sito www.investimenti.unicredit.it dove gli amici o comunque gli investitori possono trovare al centro pagina quelle che sono le ultime nuove quotazioni di prodotti di investimento. Quindi cliccando sui relativi link è possibile accedere alle brochure dei prodotti relativi quindi delle ultime emissioni e consultare quelle che possono essere le novità oppure quindi ovviamente sempre in modo statico Manuela oppure altra cosa poter accedere a quello che è il nostro filtro prodotti dove oltre ad avere la gamma dei prodotti in quotazione la clientela ha anche a disposizione quelli che sono gli aggiornamenti in tempo reale anche dei prezzi stessi. Quindi in modo da fondamentalmente dare la possibilità alla clientela di scegliere quello che è più congeniale appunto alle proprie esigenze qualora piaccia la determinata struttura di prodotto. Allora io Manuela questa mattina intanto passo anche un po' all'analisi della brochure eventualmente se si carica ovviamente speriamo sempre che le reti ci supportino. Ma sì ci supporteranno. Esatto nel caso non dovesse caricarsi abbiamo sempre una seconda strada un'alternativa che è anche un'alternativa da poter trovare sul mercato. Come aggiungere la nostra brochure? Info, avvisi e quindi nuovi prodotti e qui abbiamo tutte quelle che sono le nostre brochure di prodotti che sono quotati da inizio anno, quindi dal 2022, sia profilo investimento che profilo di trading. Allora, io come dicevo questa mattina mi sono voluto soffermare su due tipologie di prodotto che sono dei cash collect. Partiamo intanto da una prima emissione, una prima emissione appunto relativa a cash collect con cedole trimestrali ed effetto memoria. Come funziona il prodotto? Poi magari passiamo a uno specifico ad analizzare un paio di esempi pratici, magari anche con il supporto di Pierpaolo che ci indicherà, ci permetterà magari di spiegare un po' meglio anche quelli che possono essere gli scenari futuri. Allora, il cash collect di base fondamentalmente è un prodotto che permette di incassare delle cedole, in questo caso sono delle cedole trimestrali. Ricordiamo, permette di incassare perché? Perché sono delle cedole condizionate, cioè significa che queste cedole verranno pagate a condizione che, alle date di osservazione, i sottostanti che compongono appunto il paniere su cui è scritto il prodotto si troveranno al di sopra di una certa soglia, che è la cosiddetta barriera. Ok? E lo vediamo riassunto fondamentalmente in questa tabellina qui. Ricordo ancora che è un prodotto scritto su un paniere di titoli, quindi il cosiddetto, il classico worst off, e quindi non su un single stock o sul single index, che può essere anche richiamato in anticipo rispetto all'emissione. Questa è un'emissione che prevedeva una scadenza di dicembre 2024, e appunto grazie al fattore autocall il certificato può essere anche richiamato in anticipo, quindi prima della scadenza, a fatto che si verifichino determinate condizioni, cioè vuol dire che tutti i sottostanti siano al di sopra di un certo livello. Qual è la caratteristica particolare di questa emissione? E' che il livello di autocall, in questo caso, è un livello decrescente, cioè significa che ogni X periodi, ogni 6 mesi in uno specifico, il trigger, quindi il fattore per il richiamo anticipato, scende di un 10%. Cosa comporta, Manuela, questo? Comporta fondamentalmente un incremento delle possibilità che il certificato sia richiamato in anticipo, quindi che l'emittente ripaghi a 100 il prodotto, più ovviamente, oltre a ripagare a 100, quindi il valore nominale, più verrà ripagata la cedola del trimestre in corso o dei trimestri precedenti, qualora non fosse stata pagata in quanto il certificato gode dell'effetto memoria. Quindi diciamo, Manuela, che questo fattore autocall non è un fattore limitante per la clientela, ma in realtà permette fondamentalmente alla clientela di vedersi restituito il capitale in anticipo e ovviamente l'onere maggiore per il cliente che acquista il prodotto è quello solo di doversi riposizionare sul mercato scegliendo un'alternativa di prodotto in caso di autocall. Certamente. Vedendo la brochure, guardando la brochure, che cosa notiamo? Notiamo ovviamente che ci sono più panieri e ovviamente associato ad ogni paniere c'è un cluster di rischio differente tale per cui il premio che viene pagato è ovviamente diverso. Ricordiamoci sempre quello che dicevo in precedenza, attenzione a quello che è la propria propensione al rischio, quindi non fatevi sempre ingolosire o non fatevi ingolosire troppo dai premi molto alti perché a un premio alto ovviamente viene associata di conseguenza una rischiosità della struttura e di una volatilità maggiore dei sottostanti. Tale per cui, bene, ok i premi interessanti sicuramente, però occhio a quella che è la scelta del paniere di fondo. Certo, certo. Ma poi soprattutto in questo momento le premesse le abbiamo fatte non a caso, insomma vengono fatte sempre, per però in questo momento poi stare attenti a quello che succede sui vari comparti, quindi a scegliere i sottostanti. Ok, prego. Nella nostra selezione, quindi volendo parlare uno specifico di un caso per capire un po' meglio come funziona il prodotto, abbiamo individuato due prodotti che sono questo sull'assicurativo, quindi ovviamente tre azioni del comparto assicurativo, quattro azioni del comparto assicurativo, con una scadenza sempre di dicembre 2024, un premio trimestrale di 2,40 euro, ovviamente ricordiamo un premio trimestrale condizionato rispetto alla barriera e una barriera posta al 70% dello strike iniziale. Qualora volessimo entrare un po' più nel dettaglio, cosa vediamo sicuramente? Vediamo che appunto il certificato è in sofferenza al momento, sofferenza in quanto nettamente a di sotto la pari, si acquista a un 89 euro prezzo di mercato corrente, ma in sofferenza perché ovviamente i sottostanti al momento risentono di quello che è la situazione in particolare di mercato. Vediamo appunto che il worst of EACSA, quindi il peggiore del quartetto EACSA, e ovviamente tutta questa situazione particolare cosa crea? Crea una riduzione del valore, una riduzione del prezzo del certificato, quindi acquistabile sotto la pari. Struttura come l'abbiamo detto in precedenza, ma noi la struttura abbastanza diciamo semplice, se possiamo dire in questo modo, permette di incassare un coupon condizionato di 2,40 euro, quindi generare una rendita di portafoglio, coupon che prevede un effetto memoria e una possibilità di autocall anticipato ogni semestre con un trigger decrescente del 10%. Ok, allora ottimo, questa è insomma la prima panoramica che vi mostriamo. Adesso li mettiamo anche un po' non a confronto, nel senso che poi appunto cerchiamo di dare una situazione più ampia possibile, sempre a partire anche da quello che ha ribadito Riccardo, che vale per tutti ovviamente, analizzare sempre la propensione al rischio, soprattutto in questo momento, non ci facciamo ingolosire dalle situazioni e nello stesso tempo, qui torniamo anche al tema delle emotività di cui parlava Pierpaolo in apertura, non ci facciamo neanche prendere dallo sconforto immediatamente dalle situazioni, cioè insomma analizziamole, questo è un po' come dire per chiudere il cerchio. Andrei da Luca, così mostriamo anche la sua panoramica e poi Pierpaolo, da Pierpaolo poi chiedo anche un commento diciamo da quello che abbiamo visto con Riccardo e da quello che vedremo adesso con Luca. Luca. Sì, allora noi come BMP da inizio anno abbiamo fatto due emissioni, ringrazio Riccardo che ha fatto anche una serie di premesse teoriche sui cash collector, quindi io per non annoiare vado direttamente diciamo al dunque rispetto anche alle differenze. Va bene, come vuoi Luca, sentiti libero di aggiungere quello che credi insomma. Grazie, quindi ecco noi abbiamo fatto come dicevo due emissioni, sono caratterizzate da fattori difensivi che abbiamo un po' ovviamente non pensando a quello che sarebbe successo tra la crisi Ucraina e Russia ma comunque il sentore del mercato che potesse essere un mercato diverso da quello del 2021 ovviamente un po' ce l'avevamo e quindi abbiamo fatto una prima emissione di cash collect che hanno due caratteristiche principali, la prima quella di avere dei premi fissi, quindi non condizionati all'andamento dei mercati finanziari fino a scadenza ovviamente, dove poi il meccanismo si ripeterà come per i cash collect più classici, ma questo diciamo avere, non avere una condizione per i pagamenti trimestrali è ovviamente qualcosa che quindi stacca quello che è il rendimento del certificato dall'andamento del mercato azionario e in più un'altra caratteristica fondamentale, sappiamo che i cash collect hanno la possibilità di scadere anticipatamente dal sesto mese di vita in poi, qualora tutte le azioni del basket siano al di sopra del valore iniziale, quindi in caso di andamento positivo dei mercati finanziari e di tutte le azioni che compongono il basket, ecco qui noi abbiamo fatto un meccanismo dove la scadenza anticipata trimestre in trimestre diventa sempre più probabile perché quella condizione che di solito è che siano al di sopra del valore iniziale, quindi di sopra al 100% del loro valore, in realtà ogni trimestre si abbassa del 5%, quindi 95%, 90, 85, 80 e così via, quindi ogni trimestre in realtà anche in caso di ribassi del prima del 5, poi del 10, poi ribassi del 15, ribassi del 20, questi prodotti possono scadere anticipatamente, quindi pagare 100 euro perché in caso di scadenza anticipata si ha sempre il rimborso a 100 euro più il premio. Ecco che questa caratteristica è particolarmente interessante perché aumenta la possibilità di avere un esito positivo anche in mercati ribassisti e altro punto molto importante, cosa fa? Sorregge, sostiene di più quello che è il prezzo del certificato anche in questi momenti. Mi permetto di condividere lo schermo per farvi vedere velocemente cosa intendo, se riesco così faccio vedere anche il nostro sito che è un po' la base di lavoro per tutti i nostri investitori, prodotti investimento, cash collect. Ecco che se entriamo in questo mondo dei cash collect e selezioniamo premi fissi, possiamo vedere alcuni esempi, qui abbiamo una colonna che è la distanza dalla famosa barriera e la distanza dal valore iniziale, ecco che come vediamo se noi paragoniamo le ultime tre colonne, quindi i ribassi sostanzialmente dal valore iniziale delle azioni rispetto a quello che è il valore del certificato, in questo caso prendo due esempi, qui abbiamo un Tesla Motors che è il worst off che ha fatto il meno 18% dall'emissione del prodotto, ecco il prodotto oggi vale 92, quindi rispetto al meno 18 ha messo a segno una performance di meno 8%, possiamo fare altri esempi come il basket assicurativo dove AXA è il worst off, ha perso più del 20% mentre il certificato vale oggi 88, quindi ha limitato a un meno 12%, stessa cosa con ad esempio Enel, meno 17, il certificato ha fatto meno 8%, ecco che spannometricamente possiamo dire che ha quasi o a volte anche di più di mezzato quelle che sono state le performance negative, i ribassi dei mercati, ecco questa è una struttura ovviamente che per chi l'avesse acquistata quindi sta in qualche modo creando un ammortizzatore, un buffer rispetto a quelli che sono i ribassi di questi giorni per chi invece non l'ha ancora acquistato potrebbe essere un entry point interessante visto appunto che si comprano oggi a sconto e che quindi in caso poi si abbia una view positiva sul mercato sono prodotti a due anni quindi comunque permettono un orizzonte temporale che possiamo definire di medio termine e possiamo andare a ricercare una performance di tutto rispetto l'altra soluzione che si differenzia in maniera sostanziale da questa sono quelli che noi abbiamo chiamato i fast coupon fast coupon, scusate vado un po' a scorrere le slide che hanno una caratteristica molto diversa, sono prodotti invece di breve durata scadono a dicembre di quest'anno e sono un investimento un po' più tattico se vogliamo anche per ottimizzazione fiscale, anche per recupero di posizioni in sofferenza quindi anche in ottica di equity substitution oppure infine anche in maniera molto più tattica nel cercare rendimenti interessanti nel brevissimo termine qual è la concezione qui? non abbiamo dei premi periodici che contraddistinguono il cash collect ma abbiamo un singolo e unico premio dopo dieci mesi dall'emissione quindi a dicembre del 2022 la struttura del certificato di fatto ha due barriere abbiamo una barriera per la protezione del capitale che per la maggior parte di questi 15 fast coupon che abbiamo emesso sempre nell'ottica appunto di dare la possibilità di investire in diversi panieri in diversi settori, in diverse geografie abbiamo una barriera a protezione al 60% e una barriera premio all'80% i premi vanno dall'11% quindi a dicembre 2022 questi prodotti potranno pagare un premio dell'11% o addirittura del 30% per il prodotto più aggressivo qual è la logica di investimento? noi entriamo oggi sul mercato al momento dell'emissione ovviamente questa è una fotografia e l'idea era quella di dare un prodotto che per ribassi fino al 20% quindi qualora i mercati fossero stati laterali o leggermente ribassisti fino al meno 20% fornire un extra rendimento rispetto appunto al mercato per arrivare a premi appunto dell'11-30% in 10 mesi al tempo stesso qualora invece i mercati siano stati più ribassisti e qui ricordo anche qui la barriera è a scadenza quindi dobbiamo immaginare quella che è la situazione a dicembre qualora siano più ribassisti e i ribassi siano nell'ordine del 40% ecco che questi prodotti non pagano il premio ma pagano il valore nominale quindi 100 euro per ogni certificato a fronte anche di un ribasso appunto quando i sottostanti di worst off si trovano in questa area e quindi anche per ribassi nell'ordine del fino almeno 40% questi prodotti sono in grado quindi di proteggere dai mercati con forte andamento negativo qualora come sempre la barriera di protezione venga infranta è giusto ricordare che in questo caso il certificato si comporterà come il sottostante quindi la performance messa a segno dal sottostante più diciamo che ha performato peggio sarà replicata dal certificato sostanzialmente e questo è ovviamente lo scenario in questo caso negativo per l'investitore perché è dove effettivamente a scadenza si ha la potenziale perdita di parte del capitale investito certo certo ecco vedete sempre sempre valutare i pro e i contro quindi noi non nascondiamo assolutamente anche le possibilità poi di rischiare con un certo prodotto con un certo strumento ma insomma però mettere sul piatto della bilancia allora chiudiamo il cerchio con Pierpaolo Scandura peraltro ripartendo un po' da questo doppio aspetto che è emerso più volte il fatto di da una parte non farsi ingolosire da strumenti che possono che danno di fatto magari un rendimento più alto che però nascondono altre insidie è bene conoscerle poi se si decide di agire lo stesso ben venga dall'altra parte evitare di farsi però demoralizzare insomma lascio a te magari analizzare velocemente dire la tua sui primi due insomma i due esempi che ci hanno mostrato Riccardo Falcolini e Luca Comunian e poi andiamo con i tuoi per Paolo così abbiamo una visione completa sì intanto le strutture che sono state presentate sono comunque strutture difensive o almeno l'idea è quella poi chiaramente se il mercato diventa così fortemente volatile di difensivo c'è poco però comunque l'idea è sicuramente quella e possono funzionare anche oggi quindi io quello che farò adesso è farti vedere Emanuela questa mattina cioè i prezzi di questa mattina come stanno quotando questi certificati e quali sono le opportunità io partirei innanzitutto dal cash collect step down che ha presentato Riccardo sul settore assicurativo quindi i quattro titoli che abbiamo visto essere AXAS, WISRAE, Generali ed Allianz prima considerazione settore assicurativo tipicamente un settore meno volatile più difensivo di suo pertanto l'idea è già quella di avere un basket che dovrebbe risentire meno e anche questa mattina effettivamente questi titoli si stanno muovendo decisamente meno il certificato è sotto la pari ma questa era un'ovvietà dal momento che il mercato scende praticamente su tutti i settori e si può acquistare a circa 90 euro quindi questo è il prezzo a cui lo possiamo trovare sul mercato cosa fa? Praticamente a partire già dal 17 marzo quindi fra due settimane pagherà una prima cedola e poi trimestralmente con la stessa cadenza appunto cedole del 2,4 a trimestre quindi 8 punti circa 10 punti annui di cedole poi Riccardo ci ha già spiegato il meccanismo per il rimborso anticipato io ti voglio far vedere solo quella che è forse un po' la fotografia più utile e più emblematica cioè io mi metto nei panni di un investitore che in questo momento di certificati inizia a capirne un po' di più vuole capire che cosa succederà ai suoi soldi investendo oggi e facendo delle ipotesi sul mercato perché è quello che noi non possiamo ovviamente mai prevedere e dove si troveranno gli indici i titoli azionari domani fra una settimana o fra tre anni quindi aiutiamoci con questo sviluppo che leggiamo qui con questa analisi di scenario e capiamo quali sono le opportunità l'investitore che questa mattina ascoltando questa trasmissione decidesse di investire 90 euro su questo certificato sul settore assicurativo si ritroverebbe ipoteticamente arrivando a scadenza perché abbiamo detto che esiste la possibilità che rimborsino prima ma lasciamola da parte arriverà alla scadenza del 2024 dicembre 2024 con 128,8 euro quindi vuol dire 90 li spende oggi viene rimborsano 128,8 totali che sarebbero i 100 euro del capitale più le cedole quindi tutto assieme o trimestre per trimestre a seconda delle condizioni quindi un rendimento del 41,62% che vuol dire un 15% annuo quindi Manuela stiamo ragionando evidentemente su un contesto azionario cioè non stiamo presentando prodotti in linea con l'obbligazionario altrimenti questi rendimenti non avrebbero senso c'è un rischio il rischio però è controllato perché fino a meno 19% da oggi sul titolo AXA questo risultato sarà nelle tasche del nostro investitore quindi chi è il target qual è l'investitore target di un'idea come questa? chi in questo momento cercando di non farsi prendere delle motività decide di rimanere fermo sulle proprie posizioni eventualmente di sfruttare questa volatilità iniziando ad entrare su un settore assicurativo che di per sé è già tipicamente un po' meno a rischio un po' meno volatile sapendo che fino a meno 20% da oggi non dalla scorsa settimana o da due settimane fa da oggi fino a meno 20% il suo capitale sarà protetto e in più guadagnerà il 42% qual è il rischio? il rischio naturalmente è che fra due anni a scadenza di questo prodotto il titolo AXA o gli altri titoli si trovino a perdite superiori a questo 19% certo e allora lì la perdita sarebbe logicamente legata all'andamento di quel titolo quindi nel caso specifico ad esempio a meno 20% di AXA perderebbe il 24% però come vedi è come dire compro AXA compro il settore assicurativo o compro il certificato se compro il certificato nella peggiore delle ipotesi perdo come avrei perso con le azioni ma se fra due anni questi titoli non avranno perso più del 20% io arriverò a casa con un 42% di rendimento anche a parità di sottostante cioè anche se i titoli non cresceranno e questo è l'aspetto importante di queste strutture perché sono strutture che pagano anche in un contesto laterale cioè non stiamo chiedendo al mercato di risalire stiamo chiedendo al mercato rimani fermo o eventualmente perdi anche un 10% seconda soluzione è una piccola perdita non tanto la salita che in questo momento direi che è la cosa migliore per Paolo per tutte le ragioni che sappiamo questo è molto interessante andrei avanti facendo di vedere l'altra idea che era stata individuata ad esempio sulla stessa struttura è quella che vede come sottostanti i titoli Enel Intesa ed Eni quindi rimaniamo in Italia con Enel purtroppo che ha rotto oggi anche la soglia dei 6 euro in maniera importante però chi oggi ha investimenti in Enel si trova inevitabilmente in perdita questo è certo a meno che le abbia comprate 15 o 20 anni fa e quindi oggi si trova in una situazione di perdita cosa fa questo certificato? fermo restando che non è solo su Enel perché potrebbe poi trasformarsi in un certificato legato a Intesa o Eni qualora questi scendessero di più ma rimanendo su Enel la barriera cioè la protezione è a 4,92 euro il che vuol dire che c'è ancora del margine e questa è l'analisi di scenario comprandolo oggi arrivati alla stessa scadenza qui il rendimento addirittura diventa del 52% fino a meno 15% di Enel quindi chi oggi avesse Enel in portafoglio naturalmente non solo Enel avrà anche altre cose potrebbe valutare di diversificare l'investimento andando a prendere uno strumento che a fronte di un meno 15% su Enel da adesso quindi ulteriori 15 punti pagherebbe il 52% alla scadenza ovvero il 18% anno e anche qui come prima Manuela se fa meno 20 si perde il 25 tutto sommato le cose non è che diventano molto molto più gravi questo è per quello che riguarda la prima struttura dei cash collect passando invece a quanto ci ha fatto vedere Luca vediamo due idee che sono la prima sui fix cash collect che sono quelle con i premi fissi e lo stesso step decrescente per il rimborso anticipato parto da quella un po' più diciamo bassa di prezzo e quindi quella più in prospettiva interessante se vogliamo come rendimento ma c'è anche più rischio si tratta di un certificato che ha come sottostanti i titoli italiani che in questo momento sono particolarmente penalizzati Unicredit Stellantis Mediobank ed STM sono tutti con perdite dall'emissione di circa il 25% 20-25% tra l'altro a dimostrazione di come questo mercato sia particolarmente cattivo bisogna dire che il certificato è stato emesso il 19 gennaio quindi è veramente a poco più di un mese quindi 25 punti percentuali di discesa in questo mese per questi titoli avranno finito che sta succedendo questa settimana figuriamoci nell'ultimo mese certo esattamente ora avranno finito la discesa non sta a noi dirlo non lo possiamo sapere ognuno di noi può fare le proprie valutazioni con questo certificato però facciamo una diciamo creiamo una strategia innanzitutto lo acquistiamo a 82 euro emesso a 100 lo compriamo a 82 vuol dire già risparmiamo un bel po' rispetto al prezzo di emissione ma è giusto i titoli sono scesi è anche corretto che io lo paghi di meno analisi di scenario questa è l'analisi di scenario arrivati alla scadenza quindi vi faccio vedere sempre solo queste che sono più semplici senza diciamo dettagliare troppo le caratteristiche lo compri a 82 euro arriva a scadenza in questo caso il 23 gennaio quindi rispetto ai prodotti di prima un anno prima circa eh 12 mesi prima 48% di rendimento fino a meno 17% da oggi di unicredit quindi vuol dire deve arrivare a 8 euro e 20 ma c'è un altro aspetto che è quello che più mi piace di questa tipologia ti invito a guardare e spero si venga bene altrimenti lo ingrandisco anche ti invito a guardare cosa succede a fronte ad esempio di un meno 20% la perdita sarebbe del 3% è che questo l'aspetto più interessante delle strutture difensive sono state mostrate sia da Riccardo che da Luca cioè al di sotto della barriera comunque sono strutture che permettono di perdere meno perché i premi fissi perché Riccardo non lo ha raccontato per motivi di tempo probabilmente ma l'altra tipologia che ha anche unicredit è esattamente questa che stiamo vedendo con i premi incondizionati e i premi incondizionati rappresentano un cuscinetto alle perdite perché giustamente se sono incondizionati vuol dire te li pago a prescindere quindi è come se tu investi 100 e certo che me ne ridai 30 di euro è come se avessi in realtà speso 70 ecco questo è quello che Emanuela vorrei che venisse focalizzato non tanto la parte bella quella verde del guadagno ma la difesa in caso le cose dovessero continuare ad andare bene certo va sempre fatto ma io insisto soprattutto in questo momento allora vi chiedo un flash finale perché siamo in chiusura fermo restando che vi chiedo anche di ricordare come fare a mettersi in contatto con voi Riccardo riparto da quello che abbiamo letto anche sul nostro sito questa tavola rotonda in generale la nostra attenzione verso il mondo dei certificati è proprio dovuta al fatto che ci sono tante persone attente informate che sanno come dire come valutare gli aspetti però anche per chi ancora non è esperto si sta avvicinando al mondo dei certificati quindi deve capire insomma come fare ad agire quindi cosa ti senti di dire da questo punto di vista ricorda anche i contatti vostri sì allora Emanuela sicuramente per avvicinarsi al mondo dei certificati gli emittenti oltre a strutturare prodotti strutturare appunto che siano prodotti che siano diciamo aggiornati alle condizioni di mercato creare strutture innovative nuovi sottostanti e quant'altro portano comunque avanti soprattutto in periodi come questi dei percorsi di formazione che siano adeguati alla clientela o che permettono fondamentalmente alla clientela più o meno schillata di conoscere appunto nuove strutture finanziarie quindi il mio consiglio ribadisco nuovamente perché in questo momento è molto importante è quello sicuramente di formarsi e di informarsi noi come Unicredit siamo sempre attivi nell'ambito della formazione ogni mese diciamo ospitiamo presso di noi tanti ospiti tra cui Pierpaolo Pietro Di Lorenzo Gabriele Bellelli insomma che ci aiutano in questi percorsi di formazione e quindi il mio invito è sicuramente nel momento in cui c'è un dubbio o consultare il nostro sito www.investimenti.unicredit.it dove la clientela può trovare tutte le informazioni di cui può aver bisogno o contattarci al numero verde perché ricordiamo c'è un numero verde dedicato appunto a tutti e aperto a tutti sia clienti sia non clienti Unicredit che è l'800 01 11 22 dove noi rispondiamo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì quindi qualsiasi informazione si possa aver bisogno noi siamo a disposizione e ovviamente il mio invito è sempre quello di studiare informarsi leggere perché ovviamente i mercati sono dinamici sono in continua evoluzione e di conseguenza sarebbe impensabile approcciarsi senza un approccio consapevole bravo assolutamente sì la consapevolezza altra parola chiave Luca Comunian BMP Paribas stessa cosa chiedo a te in chiusura direi che ricalco completamente la risposta di Riccardo direi non a caso Unicredit e BMP Paribas sono tra i principali emittenti sul mercato italiano mi permetto anche di dire in maniera duratura nel tempo nel senso che abbiamo tutti i presidi sito internet che tra l'altro per rendere la vita facile si chiama investimenti www.bmpparibas.it anche noi proprio in alto sul sito abbiamo un numero verde e un'email al quale ovviamente forniamo un servizio clienti direi di ottima qualità perché poi viene trattato direttamente dal TESC qui di Milano quindi siamo noi stessi che rispondiamo al telefono e l'altra cosa che esposo è appunto tutta l'attività che noi emittenti facciamo in termini di formazione abbiamo appuntamenti che sono quasi giornalieri a questo punto ma non solo di formazione sui certificati che è ovviamente una parte fondamentale ma proprio cerchiamo di coinvolgere anche esperti di mercato quindi citava prima Riccardo vari nomi e questo è anche al fine non solo di formare circa i mercati scusate circa i certificati ma proprio dare anche quello che è il sentiment di mercato attraverso le analisi tecniche o attraverso comunque la view di questi esperti fornire delle indicazioni su quelle che possono essere i giorni successivi e i mesi successivi di borsa perché ovviamente poi i certificati derivano il loro valore dal mercato azionario quindi è anche questo un contenuto che forniamo con tutti i nostri appuntamenti per cui ribadiamo i concetti fondamentali quelli di non di avere un approccio razionale consapevole non prendere decisioni diciamo così di pancia ma è il momento sicuramente di valutare bene quelle che sono le prossime mosse e di eventualmente anche io lo ribadisco perché sono forse un positivo cogliere quelle che sono le opportunità magari di entrare sui mercati in alcuni momenti allora consapevolezza razionalità qual è la terza parola cioè ce ne sono altre ovviamente adesso io ne ho isolata qualcuno Pierpaolo no beh diciamo che dopo queste parole le ipotesi potremmo isolarne tante come dici tu giustamente potremmo darne tante diciamo che in questo momento insomma ribadiamo il concetto di continuare a rimanere informati attraverso queste iniziative per quanto mi riguarda essendo io non emittente di certificati rispetto agli altri due ospiti e quindi il mio ruolo è quello di analizzare formare ed informare quindi certificare derivati fa questa attività in maniera indipendente ormai dalla nascita di questo segmento che è il 2006 però mi rendo conto che c'è ancora un enorme spazio di crescita e anzi Manuela io ringrazio te e soprattutto anche la redazione per aver voluto dedicare questo spazio dedicato ai certificati cioè questo spazio ai certificati perché perché c'è bisogno che vengano conosciuti se ne debba parlare sempre di più quindi grazie a voi assolutamente grazie a voi perché siete voi ad aiutarci a entrare sempre più nel merito peraltro insomma visto che noi ci occupiamo come voi in modo diverso noi come informazione ma di finanza economia di investimenti di aiuto insomma a capirne di più insomma la regola base la diversificazione perché quindi non andare a parlare anche di strumenti che magari come dire per la massa sono meno conosciuti però di fatto ecco ci rendiamo conto forse con Riccardo ce lo diciamo sempre ogni settimana visto che ci vediamo ogni settimana sulle fonti tv che invece entrano sempre più un po' nel merito anche della cioè insomma si prendono sempre più in considerazione mettiamola così e questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme quindi assolutamente noi continueremo a farlo e ringrazio voi per seguirci in questo insomma per darci una mano che altrimenti sarebbe insomma per noi sarebbe impossibile farlo senza di voi quindi l'aiuto è reciproco grazie mille allora saluto Riccardo Falcolini Unicredit Luca Comunian Vienpe Parivà per Paolo Scandura Certificati e Derivati e naturalmente ci risentiremo prestissimo sulle fonti tv grazie per l'aiuto a voi grazie a voi grazie e allora questa era la nostra le fonti asset management tv week vi invito sempre a prendere visione sul nostro sito dei nostri eventi ce ne saranno sempre molti quindi settimane tematiche e naturalmente noi vi aggiorneremo strada facendo chiudiamo qui il nostro live torniamo alle 14.30 venta sui mercati ancora con la nostra tv week e naturalmente i nostri ospiti sui mercati ora vi lascio in compagnia di tutti i nostri approfondimenti e del palinsesto di Le Fonti TV grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri